2-0 il parziale tra The Football Club e New Team con il vantaggio della squadra di Maia Verde per 2-0 gol di Dell'Abbate e di Tommaso ed è ancora un tiro di questo che si infrange sul fondo del portiere a rilancio. Vediamo molto propositiva comunque la squadra dei Football Club, stanno dando vita a un grande match. Seguiamo questo calcio d'angolo, anzi rimesso laterale, un batti e ribatti sull'out di sinistra, si cerca ancora di portare avanti Cocosta, Cocosta ancora, Cocosta non riesce ad entrare in aria, dietro per Basile, la palla si gioca ancora in un fazzoletto e Finizio che la tiene e cerca di districarsi dalle gambe ai difensori dell'inizio. La palla dietro ancora per Cocosta, grande dribbling e anche il tiro, tuttavia viene ribattuto dalla difesa di New Team che ripartono con De Rosa, sull'out di sinistra, la palla viene toccata da un difensore blu d'angelo, rimesso laterale. Vediamo questa rimessa. Giammaso dietro per De Rosa, De Rosa il tiro che tuttavia non impensilisce il portiere, c'è anche il tocco di un attaccante della sua squadra, quindi sarà rimesso l'out di giocata vicino per Basile, la palla portata sulla sinistra, si cerca di buttarla dentro per Finizio ma la palla viene rimpallata da un difensore. Seguiamo questo calcio d'angolo per i The Football Club. Pallonetto per Cocosta ma è a svezzare il difensore dei New Team e la palla di nuovo rimessa laterale per la squadra a Maia Blu, batte il capitano d'angelo vicino per Finizio che non ha più una vasfera. Vediamo questa nuova rimessa laterale, palla dentro per Finizio, Finizio! Si divora un gol ma attenta è la difesa dei New Team che impostano ma c'è la deviazione di Finizio e sarà rimesso dal fondo. Scegliamo quest'ultima azione prima di chiudere il collegamento, palla tra le mani del portiere, rinvia lungo per l'attaccante che cerca di districarsi tuttavia fa buona guardia a Cocosta al centrocampo, gliela leva, la palla sarà rimessa laterale, ci vediamo qui il nostro collegamento, 2-0 New Team. Siamo qui con i New Team che hanno vinto 6-3 una grandissima partita con i The Football, mi correggono dalla regia 5 e soprattutto abbiamo Dell'Abbate, autore di una grandissima partita, migliore in campo, orgoglio dei compagni, cosa hai da dirci su questa partita? È stata comunque una partita combattuta, anche se i The Football Club mancano due dei giocatori più forti alla loro squadra, comunque ce l'abbiamo fatta, ci siamo subito portati in vantaggio, poi ci siamo fatti recuperare, però quello che conta è che alla fine siamo riusciti a vincere. Pensate che sia il momento di sbarazzarsi di un elemento inutile come The Rosa? No, in realtà l'avremmo pensato, inizialmente io l'avevo chiamato per portare Borracci, poi è mancato il giocatore e è venuto lui la prima partita, poi non la seconda, è venuto il topo? E adesso è un elemento della squadra, va bene, quindi sperate di riconfermarvi, il prossimo match contro chi sarà? Il New Team. Va bene, quindi sarà una grande partita, allora salutiamo i New Team. Ah, un attimo, un attimo, e vorrei dedicare questa vittoria anche a Tonilaino e a Paolo Cerbone che non sono venuti, però quando comunque partì la squadra è andato un grande contributo a questo campionato. Va bene così, grazie.